E' la! E' la! Pronti? Andiamo! Topolino e gli animali da record! Come sapete, amici, noi amiamo molto gli animali! E oggi scopriremo un animale da record! Allora, se va di aiutarmi a trovarlo? Toodles ci darà una mano! Coraggio, amici! Diciamo insieme! Oh, Toodles! Oggi dobbiamo trovare l'animale da record più forte! Bene! Allora, sapete qual è l'animale più forte di tutti? L'elefante? La formica? O il gorilla? Per trovare l'animale da record... Hey, Toodles! Vediamo un po' qual è lo strumentopolo misterioso di oggi! Diciamo insieme! Strumentopolo misterioso! Un tronco di legno! Secondo voi può aiutarci? Certo che sì! Usiamo dei tronchi di legno proporzionati ai nostri animali! L'elefante può spostare 6 tronchi di legno! Il gorilla ne può spostare 3! Mentre la formica può spostare 10 tronchetti di legno! Secondo voi qual è l'animale più forte? Ma certo! È la formica! Grandioso! La formica è molto piccola ma è così forte che può sollevare fino a 10 volte il suo peso! Nessuno è come lei! Voi lo sapevate che le formiche vivono in colonie organizzate come in un condominio! Ora abbiamo preparato un regalo per la nostra amica! Guardate! È un set di valigie! La formica è un animale che lavora moltissimo e non si ferma mai! Con un set di valigie potete finalmente andare in vacanza e riposarsi un po'! Ottimo lavoro! Abbiamo trovato un animale da record! Bravi! Continuate a giocare insieme a noi! Scopriremo ancora tante curiosità sui nostri amici animali! Ciao! Ci vediamo presto!